L'Alma Basket Patti fa valere il fattore campo e batte un vertide con il punteggio di 66-53 in gara 1 dei quarti di finale play-off per la promozione in Serie A. Una gara sempre in equilibrio, con le squadre che vanno negli spogliatoi sul 33 pari, mentre nel terzo parziale le ospiti passano in vantaggio per la prima volta, seppure di sole due lunghezze. La partita si decide quindi nell'ultimo parziale, con l'Alma che in 5 minuti piazza un break di 12-0, affirma Iorente, Galbiati, Stoicova e Verona, che spezza l'inerzia della partita e consegna alle pattesi il vantaggio nella Serie, che proseguirà domenica alle 18 al palazzetto dello sport di Umbertide. L'obiettivo della squadra di coach Buzanca è vincere per chiudere immediatamente la Serie e approdare in semifinale, dove troverebbe la vincente tra Faenza e la Spezia. È stata una partita molto tosta, dal punto di vista difensivo abbiamo difeso molto bene e quindi secondo me oggi con la difesa abbiamo vinto la partita. Mi aspetto molto difficile la gara 2 perché saranno preparatissime, saranno arrabbiate, perché comunque hanno verso la gara 1 e saranno, come si dice, spietate. Vorranno vincere a tutti i posti, ma noi faremo il nostro e cercheremo di finirla nella base.